buongiorno a tutti da marco di coltelleria scintilla oggi vi presento una novità forse qualcuno di voi ha ad occhiato che in testa ha un bellissimo cappello con un logo famosissimo lederman oggi vi presento la free la p2 la caratteristica principale è l'apertura a farfalla pinza svita bulloni col tagliacavi un'altra caratteristica principale è questa l'apertura degli utensili a pinza chiusa la p2 si differenzia dalla p4 perché ha la forbice classica lima un cacciavite a taglio con righello in centimetri in pollici cacciavitino più che sia uno scalpellino funge anche da ago apri scatole apri bottiglie per chiudere gli utensili cosa si fa si tira su il fermo dall'altro lato che cosa una lama parzialmente seghettata un cacciavite a taglio con una sguaina cavi spella fili alato un cacciavite a stella a croce anche questa si solleva il fermo lei si chiude clip per il trasporto scusate il trasporto per il porto a taschino senza fodero che comunque è in dotazione la sorella è la p4 cambia in più accessoriata alla la lama tagliafuni non ha la sega sulla lama e questa non presenta la clip ma questo anellino per eventualmente agganciarla anche la p4 viene fornita di fodero in cordura sempre grigio come l'altra è solo una novità assoluta nel mercato italiano tanto desiderate e niente è un bell'oggetto comodo al fatto che si possono aprire gli attrezzi senza doverla aprir la pinza una volta vi ricordate bisognava aprirla tirare fuori tutto poi chiuderla mentre qua è molto più semplice la sto aprendo in maniera non corretta perché sono abituato ancora con le vecchie bisogna giocarci a questa novità praticamente chiedo già scusa per non essere pratico in questo movimento ma ripeto sono arrivate da un quarto d'ora circa in negozio e vedete sto sbagliando tuttora ma comunque ci si gioca comodo e valide soprattutto ripeto l'apertura finza chiusa bene tasta ci si gioca tranquillamente con questo breve video vi saluto ciao a tutti da coltelleria scintilla marco